Ultimo, individuazione della stazione appaltante per la gestione e forma associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'amico Brescia 1 Nord-Ovest a SNC del PM il 12 novembre 2011, presa data convenzione tra la comunità montagna di Valle Camonica e la comunità montagna di Valtrompia. È un altro punto che vorrei ascoltare una normativa vicenda. Quindi occorre necessariamente a questo punto affidare queste sedizioni alle gare. Vengono interrotte per leggere convenzioni di amministratura ulteriore, come convenzioni internazionali che vanno oltre il 2012. A questo punto è stato creato un ambito territoriale che è la struttura di riferimento all'interno della quale va fatta la gara. La gara non può essere fatta a livello di singolo comune, tranne per i comuni, chiaramente la comunità montagna di Valle Camonica che è un ambito a sé stante. Noi, come funtiva di Valle Camonica, come pure quello di Valle Camonica, sono stati inseriti nell'ambito territoriale Brescia 1 Nord-Ovest. E all'interno di questo ambito territoriale la comunità montagna di Valle Camonica si è proposta per assumere il ruolo di stazione appartante. Tra l'altro ci sono stati degli incontri di presorio di Brescia e quindi si è arrivato sostanzialmente a definire questo accordo. C'è una convenzione a rilatti, la comunità montagna di Valle Camonica, la comunità montagna di Valle Camonica, dove praticamente le funzioni di stazione appartante vengono a essere rassunte dalla comunità montagna. Per poter avviare questo procedimento occorre che i singoli comuni individuino, come previsto da direttore ministeriale, la stazione appartante per cui la delibera sostanzialmente è individuare la comunità montagna di Valle Camonica come ente deputato a svolgere la gara, quindi a leggerire il bando, a prevedere i criteri che sono criteri per la gara già sostanzialmente stabiliti a livello normativo, perché magari chiaramente a livello normativo possono essere difondi dal punto di vista, differenziati dal punto di vista dei criteri per la giudicazione. E quindi si è arrivato a questa convenzione e si affinano praticamente a quelle funzioni della montagna. che poi prenderà la Carte Pannella? La Carte Pannella poi farà una pagina di gestione di questa distribuzione di gas, ma con il preciso di un'azienda unica per il nuovo. Come è la decisione di avere poi i polletti? Cosa c'è? Che vi還有 i dati che sarà gestito? Certo ma se credo che ci sono utili che entrerà all'attuale. il problema adesso sarà che praticamente l'attuale gestore del servizio di distribuzione di gas metano dovrà essere in un modo indemnizzato, perché non è che a colpa di me, chi è fatto in questo momento lo forse, quindi praticamente chi subentrerà, chi c'era, dovrà sostanzialmente riconoscere, ma praticamente è un discorso di dire io devo riconoscere che poi mi indemnizzo il proprio dici, si vede, no, 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 e poi non è un discorso di distribuzione di gas, che pagherà i dati, che metti in base al valore che c'è, la rotamero e il chiaro per cento, che altrimenti uno non ha una mica la vete più che non ha mica ammortizzato, cioè chi ha, il discorso dell'adudente finale, se io non c'è a montagna, fa una gara per tutta la barca monica, addirittura, la barca monica che va a doppia, e c'è un solo gestore? No, probabilmente ci sarà la corsa, ho il dubbio, né, il dubbio è che voi potenti tutti dal valore, insomma, se c'è solo uno, perché non c'è l'oppolenza, non c'è l'oppolenza, non c'è l'oppolenza, il gas è venuto per costare lo stupore, non si è mancato lì, ma ovviamente chi compra la barca, 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 non rende gas, era sempre quella stabilità, c'è l'acqua di cose, forse un minimo di... magari poi la floresta è poca che si comincia a finire il terri, però poi la cosina c'è, il dubbio è che se poi è più solo per tutta, tutta una parte, cioè che è una cosa che fa lì, eh? E poi se magari è meglio, però con la fine, forse la gestione costa meno, non so, no? E poi c'è la componente della distribuzione e poi c'è la componente del singolo obbeditore, insomma, che ha una quota trattabile. Però con la componente regge e la componente distribuzione, immagino si è spaventato da un'autorità. Sì, ci sarebbe una cosa, anche proprio per la possibilità. Certo, che fanno l'attenzione, ad esempio, in un certo livello, avanza il contatto d'autorità. Certo, l'attenzione, proprio con la possibilità. Sì, sì, sì. E noi, in un caso di Sanofo, di Sanofo, di Sanofo, di Sanofo, di Sanofo, di Sanofo... Sì, 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 sì. Ma se viene a decadere da... Sì, 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 sì. E non è un anno da... Se fosse... Se fosse... Se fosse... Da 2012, se devo fare più chi la parte, mi hanno dato un anno in più tra questo questo secondo sostenuto, ma che non sarebbe avuto da che la parte della 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 parte della... Sì, sì, sì. E il che... Non si è fatto nulla. Sì, sì, sì. Se no, mi sono altre domande, formi in votazione. E poi scusa, comunque non mi raccomando altre cose, ma poi magari non so che già, non mi interessa. mi viene messo questa cosa, quando avevo guardato io per quella formazione di domenica, quando c'era forse la possibilità, quando vuoi si fa questo tipo di invitare, di ottenere una percentuale per il comune, lo dico come informazione, non so che ha una ricorda del accessorio, quindi non ha il accessorio che noi possiamo chiedere, dove tuturano le reti e i soldi possono chiedere tutto a chi poi vincere là, io bisogna già mettere in fase il caldo, è un altro valore per ricordarsi, sicuramente non mi serve, se forse, però il caldo è una possibilità che sui territori comuni dove il sistema della rete, nel momento in cui si faceva la cava per la concessione della rete, io non potevo chiedere un top di canone che entra per esempio nel canone. Sì, quello prevede da ricorda del problema. Sì, è sempre l'inizio che si fa per la donna. E poi dovrebbero attelare la scelta. Sì, esatto. La seconda anche della scelta. Favorevoli? Vabbè, ma se non ti aiutare... Ultima cosa, anche se non... Favorevoli? 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 Favorevoli...